Ehi Marco, questo è il tuo nuovo acquisto? Sì, settimana scorsa ero a casa di amici. Hanno affittato questo loft. Bellissimo! Fantastico! E tra l'altro non costa neanche tanto. Beh, forse è per questo che si è allagato. Già, non hanno fatto un grande affare. Comunque nessun problema. Una telefonata a Europa Assistance e hanno sistemato tutto loro, mentre noi abbiamo continuato la nostra serata. Lui e Davide, il ragazzo di Sofia, si sono conosciuti in Danimarco. Ah, carino! E chi è lei? Lei è Sofia. Europa Assistance. You live, we care.